Ciao amici sportivi, oggi parliamo della paura di sbagliare durante le competizioni e a come neutralizzarla. Ogni sportivo ha paura di commettere errori durante la sua partita. Hai visto che cosa capita a un calciatore che viene fischiato continuamente dal pubblico durante tutta la partita? Non sa più cosa fare, non prende mai l'iniziativa e scarica sempre la palla del compagno più vicino. Spesso ciò che fa lo farà sempre nel modo sbagliato, anche a costo di mettere in difficoltà la propria squadra. Per il nostro cervello la paura vuol dire essere sotto attacco. E come risolve questa cosa il nostro cervello? In tre modi. Il primo si blocca, secondo scappa o si ritira e per ultimo inizia a fare scelte veloci non ben imponderate in modo da scaricare il più velocemente possibile la responsabilità. Ho avuto la possibilità di lavorare con un golfista che era preso proprio da questa paura di sbagliare durante la sua competizione. Generalmente la sua gara iniziava bene, con buoni esultati e poi il dramma. Il dramma iniziava nel momento in cui sbagliava malamente un tiro che lo riteneva facile e da quel punto iniziava a essere nervoso, le cose le faceva frettolosamente e si arrabbiava con se stesso per aver sbagliato un tiro che aveva allenato così tante volte. La sua prestazione diventava una rincorsa a correggere gli errori che anziché diminuire aumentavano sempre più, generando una prestazione disastrosa. Ogni gara aveva sempre lo stesso scenario e lui aveva in se stesso creato la convinzione che prima o poi avrebbe sempre sbagliato. La paura faceva parte della sua competizione, del suo modo di giocare. Ecco alcuni consigli ti saranno utili per risolvere la paura. 1. Respira. Sì, proprio il respiro è la prima opzione di intervento. Un respiro corto, frettoloso, porta poco ossigeno al nostro cervello. Il nostro cervello poter lavorare al meglio ha bisogno di zuccheri che per essere trasformati in energia hanno bisogno di ossigeno. Ti ricordi cosa successe nel film Apollo 13 quando ci fu il guasto tecnico? Gli astronauti hanno escluso uno ad uno tutti i sistemi non necessari o la sopravvivenza. Questa è la stessa cosa che fa il nostro cervello. Quindi adesso ti insegnerò a come fare la respirazione profonda, quella diaframmatica che io chiamo di pancia. Ti metti in posizione abbastanza retta. Quando inspiri con bocca aperta o col naso indifferente senti che gonfi la pancia e alzi il diaframma. Per l'espirazione rilassa il diaframma, farà tutto lui. Lo facciamo insieme per tre volte. Ecco, adesso dopo aver fatto questi tre respiri sarai più sereno e tranquillo e riuscirai a vedere in modo diverso la situazione. Due, ridi. Sicuramente ci sarà la tua vocina che ti sarà dicendo le cose più inenarrabili. Sei il solito incapace, come sempre è rovinato tutto, sbagli sempre. Per risolvere questa cosa chiudi gli occhi, trasforma questa vocina stridula, fastidiosa, in quella di paperino, sbiascicata, che ti fa ridere, che non si capisce nulla, in quella di staglio e olio. Trova una di queste scenette che ti fanno ridere. Ridi più che puoi, ridi per 5-10 secondi. Quando riaprire gli occhi vedrai il problema in un modo diverso e sarai molto più sereno per fare le scelte migliori. Quando ti parli usa termini positivi, incitati, datti forza ed energia. Questo sarà il modo in cui potrai risolvere bene le situazioni difficili. Tre, riprendi il possesso della tua concentrazione. Ora che sei più sereno, rilassato, i nostri pensieri dovranno essere focalizzati su ciò che dobbiamo fare. Cerca nei tuoi ricordi sportivi le volte in cui è stato in grado di risolvere in modo positivo partendo da situazioni negative. Il detto potere volere è realtà, è vero. Se saremo più determinati, focalizzati sul futuro, sulla parte restante della prestazione, saremo in grado di gestire le nostre emozioni e farle diventare la nostra forza. Con alcuni di questi suggerimenti che ti ho appena dato, il mio cliente ha svoltato, è tornato a gareggiare in modo sereno, tranquillo, fa le scelte giuste nel momento di difficoltà e soprattutto ride quando sbaglia. In questo modo i suoi risultati sono tornati ai livelli precedenti, se non anche migliori. Quindi più saremo determinati e focalizzati su quello che stiamo facendo e più saremo in grado a gestire le nostre emozioni, facendo dettare la nostra forza. Con lo stato d'animo positivo e propositivo, sarei in grado di risolvere tutte le emozioni negative in modo semplice e soprattutto con il sorriso. Prova questi suggerimenti che ti ho appena dato. Se hai dubbi o domande da farmi, scrivimi che ti risponderò personalmente. Ciao!